La prima del 2019 comincia un nuovo campionato, luogo comune. Di certo i punti saranno ancora più pesanti e bisognerà sbagliare il meno possibile. Pillon. Vorrei rivedere gli errori che mi ha fatto a Verona, in parte a Palermo, certe situazioni di gioco che ci hanno penalizzato e non vedevo quella squadra con la cattiveria agonistica giusta. Perciò quando noi abbassiamo la carica nervosa, l'intensità di gioco, il giocar di squadra, è quello che non vorrei vedere. Alla luce della prestazione offerta ieri dalla Sernitana che ha vinto molto bene a Palermo, gettiamo la maschera, cioè il Pescara deve puntare alla promozione diretta. Noi dobbiamo puntare a giocare bene tutte le partite, cercare di fare più punti possibili. Noi dobbiamo fare il nostro percorso, dare continuità dei risultati che è sempre quello che poi alla fine paga. Perciò credo che secondo me nel girone di ritorno chi ha più continuità dei risultati vince. Gruppo al completo, unico assente nazionale Elisalde. Prima convocazione per il giovane difensore Davide Bettella, classe 2000, cresciuto nell'Inter, arrivato in prestito dall'Atalanta. L'imbarazzo della scelta domani, eh? Quando devi scegliere, devi scegliere. Io cerco di fare sempre le cose che cercano di fare meno cazzate possibili, però alle volte le faccio anch'io, purtroppo. A proposito di squadre che hanno disatteso in un certo senso le aspettative della vigilia, proprio la cremonese che affronterete domani. Io credo che la squadra, alle volte vedi come è in Serie B, se non hai il piglio giusto. Per me è di giocatori in assoluto uno delle squadre più forti del campionato. L'ho detto all'inizio, ma lo ridico adesso. La squadra da prendere con le molle, lo testimonio del 4-0 che hanno fatto contro il Perugia. È una squadra che la velocità e gli avaltamenti di fronte sono molto gravi. Perciò io la considero una delle squadre sicuramente più forti del campionato. Dubbio in difesa. Balzano ha saltato diversi allenamenti in settimana, causa influenza. È rientrato ieri, potrebbe essere confermato Matteo Ciafani, in questo caso stessa linea difensiva di Salerno. Probabile novità invece in mediana. Canutè, vertice basso del triangolo completato da Mimushaie e Brugman. Davanti Marras e Mancuso con Macin, esterno atipico come nel secondo tempo della sfida della Rechi, prima della sosta, partirebbe così dalla panchina Antonucci, non al meglio della condizione. Non ha fatto male anzi. Ce l'avevo nella mia testa questo da tempo, questa cosa. Perché lui è molto bravo a saltare l'uomo e puntare la porta. Poi è un ragazzo intelligente che sa muoversi sul campo. E devo dire che quando è entrato che lui aveva messo in difficoltà sul piano del palleggio. Sul piano non sapevano come prenderci. Perciò può essere un'arma anche questa, che è stata importante secondo me per la partita di Salerno. Domanda su Mancuso. Valore aggiunto di questa squadra come punta centrale. Però ciò non toglie che possa tornare a fare l'esterno in qualche partita per dare modo magari a una punta di ruolo. Adesso c'è Monachello, potrebbe essere anche Tuminello per dire. Sì, si potrebbe vedere, però è chiaro che lui si esprime meglio da punta centrale. Alle volte può succedere che, vediamo, si può anche giocare con le due punte, non ha detto. Bruguma purtroppo sarà sempre così. Nel senso che quest'estate è stato un tormentone fino all'ultimo giorno. Adesso, gennaio, sarà uguale, però alla fine rimane qua. Per contro la Cremonese, mai vittoriosa in trasferta, come la Salernitana. Appena quattro pareggi altrettante sconfitte, ma anche la terza migliore difesa del torneo, con 18 gol subiti. Ben sei assenze, tra cui Paoligno, gli ex Croce e Perrulli. Altresì ai margini Castagnetti, i portieri Agazzi e Radunovic. 4-4-2 il sistema di gioco. Ravaglia tre pali, Mogos, Clayton, Terranova e migliore in difesa. Lex, Danilo Soddimo e Castrovilli, esterni di centrocampo. Emmers, Arini, tandem di mediani. Davanti piccolo, alle spalle di Strefezza. Panchina per Carretta, reduce da un attacco influenzale. Duplice ricorrenza, il tredicesimo anniversario della prematura scomparsa di Marco Mazza, detto bubù storico capo della Curva Nord. E i dieci anni della nuova società del Fino Pescara 1936. Mi sembra che quando sono subentrati c'erano una marea di debiti, sono stati ripianati. Hanno creato una società, secondo me, che sta andando da sola. E questa è una cosa molto importante. E' una società che non corre i rischi che vediamo ultimamente nelle squadre. che poi a fine anno, vedete cosa succede, a Bellino, Bari, eccetera, eccetera, per non parlare di altre squadre. Perciò penso che il lavoro che è stato fatto è stato molto importante e molto grande da questo punto di vista. Perché chi conosce le dinamiche del calcio sa che non è facile. Quindi si attende una conferma per il prossimo anno? E' l'ultimo dei miei pensieri questo, di pensare a questa cosa. Ma ti ha preparato bene la cosa, la società è stata brava, dici anni. Guarda, non penso a questa cosa, io penso alla Cremonese, che è la cosa più importante. Perché è quello, noi allenatori viviamo in base ai risultati, purtroppo è questo. perché il pallo va dentro, sei un fenomeno, il pallo va fuori, non capisci niente. Perciò è inutile che io mi ponga delle cose per il futuro, che poi non si... Sono troppo... Non ho navigato perché sennò mi sento vecchio. No, lei è realista. Bravissimo, io sono realista. Però a noi piace anche un po' sognare, a noi, no? Sognare, dire, fantasticare magari. Eh, ma anche, i sogni fanno parte... A me piacerebbe vedere il mio pescale, un certo... Però questo è un sogno che speriamo di poter realizzare.